mamma mamma bingo zoppica credo si sia fatto male alla zampa oh cielo diamo un'occhiata è solo una piccola spina oh no povero bingo povero bingo se inciampi scivoli o cadi se sbatti e ti fai male per una scheggia o un graffio un morso una puntura o una ferita se ci si fa male c'è una cosa da fare anche solo se è una piccola vua c'è sempre una cosa di cui hai bisogno è T-A-C cos'è T-A-C mamma? è l'acronimo di tenere amorevoli coccole che cos'è? beh può essere una carezza un bacio un abbraccio un nido una nuvola una tana esatto una coccola un abbraccio un po' d'amore si raggomitolarsi sul tappeto se ci si fa male c'è una cosa da fare anche se è solo una piccola vua esatto c'è sempre una cosa di cui hai bisogno è T-A-C è importante dire agli adulti se ci si fa male perché possono decidere di cosa si ha bisogno per stare meglio oh sii oh guarda ho un dolore qui viene uno piccolino una bua un dolorino al pancino per farla popò piccolino oh bimbo chiama la mamma vedrai ti dirà cosa fare voglio un abbraccio grande una strizzata ho dei cerotti sulle ginocchia un po' di ghiaccio si per favore ecco un sacchetto di piselli congelati se ti fai male c'è una cosa da fare anche se è solo una piccola vua c'è sempre una cosa di cui hai bisogno è T-A-C che cos'è ragazzi? è T-A-C esatto T-A-C sì T-A-C io voglio un po' di T-A-C anche un po' di T-A-C sì sì dai facciamo tutti un po' di T-A-C